Vedo nuvole in viaggio che hanno la forma delle cose che cambiano Mi viene un po' di coraggio se penso che le cose poi non rimangono mai Come sono all'inizio, 2013, un nuovo solstizio Se non avessi voluto cambiare oggi sarei allo stato minerale Mi butto, mi getto tra le braccia del vento Con le mani ci faccio una vela e tutti i sensi li sento Più accesi, più vivi, come se fosse un'antenna sul tetto Che riceve segnali da un mondo perfetto Sento il mare dentro una conchiglia Estate, l'eternità è un battito di ciglia Sento il mare dentro una conchiglia Estate, l'eternità è un battito di ciglia Eccoci qua, buonasera, bentrovati a Udinese Tonight Quelli che vi abbiamo mostrato sono gli ultimi scatti delle vacanze Perché le vacanze stanno per finire per l'Udinese Tra una settimana esatta, a parte il ritiro Saremo qui a inaugurare una stagione, lo sapete, una stagione storica Perché sarà la stagione in cui l'Udinese giocherà in uno stadio Friuli Tutto nuovo C'è però, abbiamo registrato in questi ultimi giorni Soprattutto un'aria un pochino strana Un po' di preoccupazione per quello che è il futuro della squadra Che insomma l'Udinese sta allestendo E allora abbiamo deciso di fare chiarezza E non c'è persona migliore che ci aiuti a fare chiarezza In tema di mercato del direttore sportivo Cristiano Giaretta, buonasera direttore Buonasera, buonasera a tutti Bel compito arduo quello che le tocca stasera Sono qua a posto E lo sappiamo che è bello pronto Buonasera anche a Massimo Giacomini Buonasera a tutti Buonasera e a Franco Causio Buonasera Giorgia, buonasera a tutti Ciao Stefano Ciao Giorgia, siamo qui appunto per sentire quelle che sono le voci anche di voi da casa Perché come abbiamo detto l'Udinese tramite il direttore sportivo Cristiano Giaretta Ci metterà anche quella che è la faccia Risponderà a tutte le vostre domande Che arriveranno sui social network dell'Udinese Che sono sempre attivi La mail web tv chiocciolaudinese.it Il numero di telefono 388 43 116 81 Sentiremo un po' quelle che sono le vostre opinioni da casa E poi analizzeremo tutto quello che c'è da sapere Magari sul possibile nuovo arrivo in casa bianconera Chissà, un attaccante Eh sì, eh sì Abbiamo dei giochini per voi anche stasera Non c'è la lotteria Vedo Franco Causio che ride Lo vedi che non c'è Però ci saranno altre sorprese E allora facciamo così Niente la Coppa di Poggi Niente Coppa, ha visto? Voi siete venuti qui per fare la lotteria Così esteticamente valida Massimo che diamo direttamente al direttore Ma mi ha detto che avete fatto già la campagna Sì, sì Trasferimenti quindi Sì, ma sto seguendo però Mister, dobbiamo mettere i puntini su lei La Coppa è un premio che ha dato Poggi al sottoscritto Per il miglior gol segnato a una partita di calcetto in semi rovesciata Tra l'altro se c'era il direttore a vedere E appunto E infatti noi abbiamo fatto altro uso Ecco Non male Ci sembrava irriverente fare la lotteria del mercato qui con il direttore Anche perché insomma più che giochi Cerchiamo di dare delle verità In quest'ora che passeremo insieme Allora cominciamo un pochino a fare il punto Quella che vi dicevo che è l'atmosfera Sui giornali ma anche sui social Vediamo che cosa è stato scritto su internet e sui giornali Nell'ultima settimana E poi ne parliamo proprio col direttore Con i nostri ospiti Servizio di Maurizio Ferrari Ogni volta che mi sveglio Ogni volta che mi sbaglio Ogni volta che sono sicuro Ogni volta che mi sembra solo Pur essendo l'udinese un modello societario Consolidato da diverse stagioni in Serie A E apprezzato su più fronti per la gestione sportiva Nelle ultime settimane Serpeggia preoccupazione tra i tifosi Per il futuro della rosa bianconera E la sua competitività per il prossimo campionato Un malumore analizzato anche dai giornalisti Vicini al mondo friulano Dalle prime del messaggero veneto Che ha stampato il titolo Lo stadio c'è Ora manca soltanto l'udinese E successivamente è inquadrato La rivalità intestina anglo-italiana Con Pozzo spende solo per il Watford Fino alle pagine interne del Gazzettino Che scrive di un allarme dei tifosi bianconeri Per i troppi affari oltremanica Ed è il più nazionale tutto sport Che usa invece i termini gelosi E nel sottotitolo mette addirittura In discussione i Pozzo Fermi con la società friulana Sono attivissimi con il club inglese Di loro proprietà Articoli che hanno scatenato Anche una forte attività sui social Dove l'ironia ha da sempre terreno molto fertile Il gufo è incredibile Poi il mondo del web è pazzesco Quando si scatena Allora direttore C'è un'aria un po' preoccupante Un po' così Vista anche la stagione Che dovrebbe essere invece storica Sì in effetti Sì c'è Ma mi sembra veramente Un po' eccessiva E troppo perentoria Perché comunque Non dobbiamo dimenticare diversi aspetti Il primo dei quali Che il mercato Estivo Prima di tutto È appena cominciato Abbiamo due mesi davanti Si concluderà solamente Il 31 agosto Quindi una data Lontanissima Per cui Abbiamo tutto il tempo Per portare a compimento Tante operazioni Comunque quelle operazioni Che abbiamo cominciato Ad affrontare C'è un altro aspetto Di cui si parla molto poco Che allora Abbiamo e leggiamo Diverse richieste Per Carnesis Dalla Roma Per Ertò Lazio Napoli Per Allan Napoli Fiorentina Cioè diversi giocatori Richiesti Widmer lo stesso Eppure questi giocatori Sono ancora qui Sono dei grandi giocatori Che tutti ci chiedono Ma sono ancora qui E li vogliamo tenere Per la prossima stagione Allan in particolare Faremo di tutto Per trattenerlo Perché vogliamo dare al mister E a tutti i nostri tifosi Soprattutto per questa stagione Che si sta per aprire Una squadra molto competitiva Perché come hai detto Giustamente bene prima Sarà anche una stagione storica Che verrà ricordata Per l'inaugurazione Dello stadio Una stagione 15-16 Una stagione Per noi importante E non vogliamo farci trovare Impreparati In questo senso Quindi Già il fatto Che questi giocatori Oggi rimangano E il fatto Che comunque Abbiamo più di due mesi Davanti di mercato Mi lasciano E ci lasciano Veramente tranquilli Ma devono stare tranquilli Soprattutto Tutti quanti i tifosi Aggiungo inoltre Che questa squadra Si sta anche rinforzando Invece Perché De Nilsson Non dimentichiamo Che De Nilsson È un giocatore Che sta Che ha fatto benissimo Nella passata stagione Al Genoa È un giocatore Di altissimo Di altissimo livello Ha diversi richieste In particolare Ne abbiamo rifiutata una Rifiutando diversi soldi Messi su un Su un vassoio d'argento Di chi? Per De Nilsson Per De Nilsson Di chi era la richiesta? Una proposta Di un club importante Di Serie A Che non può dirmi Quindi voglio dire Anche qui Stiamo rinforzando Rinforzando la squadra Poi ci sono delle priorità Chiaramente Quindi Guarderemo Stiamo guardando sicuramente All'attaccante Ed eventualmente Qualora uscisse un giocatore Ma ripeto Faremo in modo Di trattenere tutti I nostri giocatori Più importanti Ma qualora ne uscisse uno Sarà solamente perché Andremo a rinforzarci Nei ruoli dove abbiamo Più bisogno Rispetto All'accessione Che è stata fatta Quindi ci sono diversi Elementi Per cui Mi dispiace E non capisco davvero Vedere tutto questo Allarmismo Che poi manda E lancia quei messaggi Verso i nostri I nostri tifosi Che in realtà Mi sento veramente Di contestare Di dare serenità Un po' a tutti Perché ripeto Sono diversi gli aspetti Per cui La stagione che andremo ad affrontare Sarà una stagione importante Aggiungo anche un'altra cosa Siamo stati comunque i primi A nominare il nuovo mister A fare la prima conferenza stampa Del nuovo allenatore in Serie A Quindi vuol dire che le idee Sono subito partite Sono molto chiare L'allenatore È un allenatore di primo livello Di prima fascia Che sposa in pieno Il nostro progetto Ed è molto contento Della rosa Che avrà a disposizione Con le giuste accortezze Di cui ho appena accennato Quindi davvero Se abbiamo cambiato Anche il mister È perché vogliamo ulteriormente Migliorare i giocatori Purtroppo Nella passata stagione Non hanno prodotto Una stagione di altissimo livello Ma per questo Mi sento di dire Che anche un attimino Nel nostro giudizio Deve essere un attimo sospeso Perché comunque Non hanno Per sverate ragioni Per sverate ragioni Non hanno prodotto Una stagione così importante Ma vuoi perché Comunque c'era un allenatore nuovo Un allenatore Un allenatore giovane Abbiamo giocato comunque Tutto l'anno in un cantiere Anche questo è un dettaglio Che comunque non è Solamente un dettaglio Perché comunque il contorno L'ambiente Quello che ci darà il nuovo stadio Con i nostri tifosi Sarà qualcosa che ci darà Un valore aggiunto Ci porterà sicuramente A qualche punto In più in classifica Quindi davvero io dico Stiamo sereni Stiamo calmi Poi in questo È il periodo E capisco Perché per carità Bisogna scrivere Quindi Cosa succede Che la gazzetta Molto spesso Come è successo negli anni passati E mi riferisco Negli ultimi dieci anni A fine mercato Ci dà puntualmente Il punteggio di 4,5 O 5 Poi puntualmente Molto spesso Comunque l'udinese è arrivata In Europa League In Champions League Quindi calma e sanguefretto Ecco questo è il messaggio Che mi sento Di dare così A grandi linee Ha fatto bene A ricordare il nome di Edenilson Perché è passato Veramente quasi Nessuno Quasi nessuno ne parla Invece è un rinforzo La proprietà ha rifiutato Un'offerta Noi ne abbiamo parlato Noi sì Ma noi siamo i più grandi Abbiamo precisato È un giocatore che vogliono tutti E la proprietà ha rifiutato Un'offerta davvero molto importante Quindi voglio dire C'è voglia di far bene Perché vogliamo davvero Regalare una stagione importante A nostri tifosi Ai quali teniamo veramente Ma lo stadio è per loro Il presidente del Patrono Non ha fatto lo stadio per sé Lo ha fatto soprattutto Per i tifosi Per dare una nuova casa Alle famiglie Per creare Un grandissimo senso di appartenenza E cosa dobbiamo fare Per fare questo Non basta un nuovo stadio Bisogna anche far bene in campo Quindi abbiamo assolutamente La volontà di far bene in campo Le faccio vedere una grafica Prima di sentire anche I nostri ospiti Su questo tema Abbiamo un pochino Riassunto I temi che destano perplessità Nei messaggi e sui giornali Il mercato udinese in stand by Ma ha già risposto lei Siamo al primo luglio Le possibili partenze Punto 3 E ha già risposto lei Li stiamo trattenendo E poi c'è questo secondo punto Che va chiarito Il fatto che L'abbiamo chiamata Gelosia da Premier Copiando un pochino Il Corriere dello Sport Nell'articolo che abbiamo visto Nel servizio precedente In realtà Sentire che magari Il Watford compra Abbiamo riscontrato Dì a fastidio Sì ma giocava in seconda divisione Eh vede E non giocava Nella Premier League E pertanto Per forza che deve rinforzarsi E anche più in fretta Rispetto alla situazione Dell'udinese Che è un'altra Più in fretta Anche perché Uno Il campionato della Premier League Parte l'8 di agosto Quindi oggi Il Watford Si è già ritrovato Per la nuova stagione E quindi È normale che fossero Un attimino più avanti di noi È un progetto completamente diverso Da quello dell'udinese Che farà il suo percorso Come l'udinese farà il proprio Però a Woffro Giustamente come ha detto il Minister C'è una squadra da ricostruire Perché è un conto La Championship E un conto è la Premier League Non ha una base Come c'è già l'udinese Assolutamente no Qua l'udinese c'è uno zoccolo Un lavoro che dura da 26 anni Di cui Di questi 26 20 sono consecutivi In serie A Con uno stadio di proprietà Che è arrivato Al 26esimo anno di gestione Quindi voglio dire C'è un Un progetto Completamente diverso Poi In realtà Io spero che Ricordiamo in fretta Anche l'operazione Il Watford Perché Non è così semplice In realtà Non è che si è chiuso Tutto quanto Abbiamo letto sui giornali Anche lì ci sono difficoltà Nelle trattative Dei costi altissimi Bisogna programmare In Italia E voglio ricordare Anche ai tifosi Che comunque Dalla prossima stagione Ci saranno le rose A numero chiuso Quindi sono 17 giocatori Più 8 giocatori Formati in Italia Allora qui bisogna andare Non con i piedi Ti piombo Di più Perché le rose Questa volta Vincono veramente Le scelte di mercato Franco Opinione su tutto Quello che abbiamo Sentito e visto Io sono d'accordo Con quello che ha detto Direttore Quindi bisogna stare Molto cauti Essere equilibrati A dare dei giudizi Especialmente I giornali In questo momento È il momento di vendere Il momento di dare delle notizie O vere o false Ma darle Quindi se no Il giornale non si vende Quindi Ma non solo Sai Parliamo ai quotidiani Anche locali Ma anche a quelli nazionali Fanno tutti Io vedo anche Televisione Tante invenzioni Tizio va da una parte Tizio va dall'altra Ma perché? Perché dai fanno tizie Questo momento Sono queste Però io credo Che la famiglia Porzo Ha dato negli 25 anni Delle risposte importanti Dove? In campo Quest'anno è andata male Purtroppo per vari motivi Cantiere come ha detto Il direttore Lo stadio Qualche giocatore Non ha reso quello Che doveva rendere Allenatore nuovo Bisogna tenere conto Sicuramente La squadra deve essere rinforzata Lo sanno anche loro Però Ci sono ancora due mesi Diamo tempo a loro Di vedere Capire E anche di analizzare Con il nuovo allenatore Dove mettere mani Questo è un altro tasto Giustamente Cato Franco Perché comunque Vogliamo che anche Il nuovo allenatore Che anche il mister Con l'Antuono Analizzi in prima persona E conosca dal punto di vista Caratteriale Non solo dal punto di vista Tecnico I giocatori Quindi Se le scelte Della società Le avevamo già fatte Nelle nostre teste Nelle nostre riunioni Vogliamo che il mister Poi le appoggi O le cambi A mercato in corso Durante la preparazione Per questo abbiamo organizzato Diverse amichevoli 10 amichevoli Di cui 6 o 7 Di altissimo livello Proprio per analizzare In profondità Il valore della squadra Ma ci sono tanti elementi Per cui Vogliamo condividere Con il mister Tutte quante le scelte Tutto quanto il progetto Quindi Davvero mi meravigliano Un po' tutti questi messaggi Perché questi messaggi Al di fuori di qui Non passano Io sono stato 15 giorni A Milano a fare mercato E l'udinese Al di fuori di Udine Ha le idee non chiare Chiarissime E tutti quanti Che ci vogliono imitare Arrivi qui Invece noti Un po' Certi messaggi Un po' di diffidenza Però in realtà Ecco Quello che ci preme Far sapere Ai tifosi Di Di darci il tempo Di lavorare Che comunque Se questa è una società Che da 26 anni Mantiene l'udinese Al altissimo livello Perché ci sono delle persone Che sanno lavorare E sanno quello che fanno Quindi Dico Andiamo avanti Con questa fiducia Con questa sinergia Con i nostri tifosi I quali teniamo tantissimo Per i quali comunque Si stanno spendendo Energie Soldi Ma con tanto entusiasmo Perché vogliamo regalare a loro Un qualcosa di importante Mister Ma io dico Che sul discorso Che faceva Il direttore sportivo C'era un vecchio allenatore Che quando il presidente Gli chiedeva Ma scusi però Quel giocatore Dice Lei lo conosce E quello gli rispondeva Si l'ho visto giocare Ma non ho mai pranzato Con lui E allora Il discorso Io voglio dire Che il giorno 6 Cominciano le bocce A muoversi Ma il campionato Comincia verso il 20 di agosto All'incirca Per cui quando Le bocce saranno ferme Noi diamo un giudizio A me la storia del mercato Non mi appassiona per niente Non mi ha mai appassionato Nemmeno quando lavoravo Ma sta di fatto che Cioè il discorso Di affrettare la situazione Mi sembra assurdo Soprattutto anche Per la composizione Della rosa Che ha Logicamente Da parte di una regola Determinati limiti E pertanto Poi il discorso Del Watford Mi sembra normale Che una squadra Che sale Dalla serie B Se vuol mantenersi Con certezza Nella categoria superiore Nella Premier League Deve Inserire 4-5 giocatori Qui il problema È diverso Nel senso Tra parentesi Noi abbiamo parlato A suo tempo Di Edie Nelsson Che nessuno ne parla Che ha fatto Un campionato Notevole a Genova Io ho Delle spie Sovietiche In Genova Ho dei parenti Che mi hanno detto Che si sono meravigliati Delle qualità Di questo giocatore Per cui Il discorso Ed è già un acquisto Questo Perché ragazzi Rifiutare un'offerta Come quella Che ci è arrivata Questo È già un acquisto Quindi veramente Dico Ci sta incuriosendo Però con questa offerta Prima della fine Dobbiamo fargliela dire È difficile Parliamo di una squadra Dovete fare ancora L'estrazione L'estrazione Di alto livello Di una metropoli Per cui Vediamo le spie sovietiche Del mister No Io volevo Semplicemente Concludere Anche Meno internet Più cabernet Insomma In un paese In un paese Che sono tutti Intenditori di vino Insomma Cambia No Viamoci a tavola E discutiamo Ma le panni del tifoso Per carità Giorgio Ci sta anche Questa dire Ma l'Udinese Cosa fa Per carità Ma ci mancherebbe Però ecco Chi ci conosce Chi vive con noi Quotidianamente Comunque I nostri amici giornalisti Sanno bene Come lavora l'Udinese Quali idee ci siano Ma è un progetto Che ormai Lasceranno il pozzo Per il ruofalo Ma come Possiamo pensare Questo Quando c'è Uno stadio Un gioiello Che sta nascendo Bello Adesso non lo voglio descrivere Ma bello Come i tifosi Un giorno vedranno Voglio dire C'è un progetto In grandissima espansione Per questo Dico Stiamo lavorando Ci vuole il tempo Per lavorare Ma ci sono diversi punti Per i quali Comunque Stiamo tenendo d'occhio Assolutamente Di dare al mister Con l'Antuono Una rosa Competitiva E vogliamo che il mister Con l'Antuono Soprattutto Condivida con noi Le scelte Che poi Mi sembra che insomma L'Udinese Più o meno Abbia sempre lavorato In questo modo Non è che a giugno Colpi di mercato Cose incredibili No Si è sempre lavorato Secondo dei principi Ma giustamente Come ha detto il mister Bisogna fare il mercato Nel momento in cui I giocatori che vai a prendere Migliori nettamente La tua rosa Esatto Prendere per prendere Non ha senso Se i giocatori Abbiamo dei dubbi Il discorso Se lasci calmare Le acque Lo puoi pagare di meno Aver meno difficoltà Perché il problema È questo Alla fine Perché tutti sparano Adesso Vai là E tutti sparano Perché è normale Però passa una settimana Sparano a parole Perché di soldi Ce ne sono pochi In giro Massimo Si ma tutti sparano Per prendere Quattrini Hai capito Se tu guardi Le squadre Dopo alla fine Invece vengono Amiti consigli Massimo se tu guardi Chi sta facendo mercato In questo momento Sono le grandi squadre Le milanesi Soprattutto Le Juve La Juve Poi c'è Inter Mila Perché hanno bisogno Di rientrare Nel grande giro Mila per ora Ha fatto un acquisto Quindi anche lì Non è che Ha fatto solo Vabbè Due con Bertolacci Ha parlato molto Il banca non è ancora ufficiale Il banca non è ufficiale Quasi insomma Però è andato a pagare 30 milioni di euro 20 milioni di Bertolacci Bertolacci 20 Ma ragazzi Sono tanti soldi Per Bertolacci Secondo lei Sono tanti soldi Per Bertolacci Ma infatti ho paura Che magari Si perdano Un attimino La nostra dimensione Perché voglio dire Per carità Dopo possiamo fare Tutto il contrario Di tutto Ma poi dopo Vediamo che fine Fanno certe società Voglio dire Allora Cerchiamo di Condividere Di dare continuamente L'infa A questa società Con l'equilibrio Che l'ha sempre Contraddistinta Con questa lungimiranza Di gestione Anche economica E poi dopo I risultati Non mi sembra Che siano arrivati Dei risultati Per cui Insomma C'è da Essere delusi Quanto altro Anzi Se Bertolacci È stato pagato 20 milioni Un'altra squadra Che ha Un giocatore Di centrocampo Di un certo tipo Dice Ma se danno 20 a Bertolacci Noi possiamo Prenderne 18 del nostro Fra 15 giorni Bastano 8 Per dire Perché questo È il discorso In fondo Perché alcuni Acquisti Che fanno Le grandi squadre Rovinano Il prezzo Del mercato Perché Insomma Bertolacci 20 milioni È pagato bene Profumatamente Ci poteva spendere Di meno Questo voglio dire Se Bertolacci Costa 20 milioni Di euro Allora Quanto poteva valere Causi Allora No ma Non c'entra Causi Lasciamo perdere Quindi Questi sono anche Dei tempi giusti Per intervenire Sul mercato Comunque Sono anche Quelle cose Per cui È meglio Essere equilibrati Perché leggevo Oggi La gazzetta Che mettono Le tre faccine Sui giudizi Del mercato Noi siamo La terza faccina Come sempre In due squadre Siamo Quella più scarsa E fino a quando Ci manteniamo A quei livelli Va bene Perché vuol dire Che manteniamo Meglio così Non la becca mai La gazzetta dello sport Non la becca mai Tranne l'ultimo anno Loro sono arrivati sempre O in cempio O in euroleague Tranne quest'anno Quando la gazzetta Ci metterà La faccia più bella Che vuol dire Un mercato Stratusferico Allora bisogna preoccuparsi Allora bisogna preoccuparsi Le faccine tra l'altro Sono messe Per il livello numerico Degli acquisti Perché hanno messo Le faccine sorridenti Poi gli acquisti Tu vedi le altre squadre Sono tutti rientri Dei prestiti Che avevano in giro Quindi FP Tutto fine prestita Non hai capito Quindi bisogna anche Dare noi Dei messaggi giusti Chiaramente Sentiamo un po' Di messaggi da casa Cerchiamo di darlo Qualche messaggio giusto Direi Sottoscriviamo in pieno La lungimiranza Della società Perché poi Si parla anche Di squadre Fuoco di paglia E poi scattano Degli allarmi Insomma Facciamo dei riferimenti Chi vuol capire Capisca Però Sono veramente Sommerso dai messaggi Perché sono arrivati In un amen Da una trentina Almeno di messaggi Se non di più Quindi cominciamo A smistarli Cominciamo a fare anche Qualche domanda Diretta Al direttore Cioè chi voleva sapere Perché siamo L'unica squadra A far parlare di sé Solo per i giocatori Che devono andare via Piuttosto che quelli Che devono arrivare Che è più o meno L'argomento che abbiamo Cavalcato finora Poi c'è Daniele Che vuole sapere Visto l'andamento Dell'ultima stagione Cosa si prevede In entrata Per questa stagione E poi fa i complimenti Alla trasmissione Ma questo non ci interessa Insomma Su quale reparto Magari l'Udinese Andrà a doperà Un po' ci interessa Grazie Grazie Beh che l'Udinese Si è riconosciuta Soprattutto per i giocatori In uscita È comunque una cosa Comunque importante Perché vuol dire Che negli anni Ha saputo consolidare E valorizzare Comunque sia dal punto Di vista tecnico Che economico Dei giocatori Quindi tutti si ricordano Ricordano i Sanchez Asamoah Isla e compagnia E quindi ci sta Anche questo tipo di Però per tutti quei giocatori Che escono Ci sono anche giocatori Che arrivano Che sono sicuramente Molto meno famosi Di quelli che vengono venduti E lo saranno Sicuramente un domani Poi il reparto Nel quale Dobbiamo intervenire Soprattutto Tutto è senz'altro L'attacco Ecco quindi Siamo alla ricerca Di un attaccante Di un attaccante Possibilmente Già pronto Per affrontare La nostra Serie A E poi dopo Vediamo un attimino In base A ciò Che offrirà il mercato Le opportunità Perché comunque Il mercato è sempre In continua evoluzione Oggi vogliamo Trattenere tutti Ma se verrà Un giocatore Uno Al massimo A dire Voglio andare via A tutti i costi Non possiamo Far finta di nulla Taparci le orecchie Ma dobbiamo ascoltare Anche il volere di un giocatore Che credo Che sia molto deleterio Trattenere un giocatore Nel momento in cui Ha una proposta importante Perché dopo Abbiamo già vissuto Per esperienza Il rendimento Che produrrà in campo In quella stagione Rischiamo che diventi Un rendimento molto basso C'è un tifoso Stiamo pensando Stiamo pensando Giustamente Non l'abbiamo commentato Anche prima Quello è un altro Ruolo Che tra le nostre Priorità Abbiamo condiviso Anche con il ministro Giustamente Questo aspetto Che fai presente tu E credo che questi Siano i due Ruoli Nei quali dovremo intervenire Poi Allora abbiamo A proposito di attaccanti Cominciano a fioccare I nomi Addirittura Il direttore Chiedono di portare Cassano Per onorare degnamente Il nuovo stadio C'è il nome di Sau Che chiedono Molti tifosi E poi anche Perché non prendiamo Niang e Mastur Dal Milan Siede grandi Forza Udinese Forza Udinese Chandel Sono tutti i nomi importanti A parte Mi sento di dire Cassano Ma per un semplice Motivo così Che parecchio che non gioca Quindi ci sarà Da rimetterlo in pista Eccetera eccetera Ma anche se giocava Lasciano due stagini Dato Sì Dato un grafico Poi altri nomi Sono stati fatti A partire da Sau Niang e Mastur Sono giocatori giovani Sau meno Però comunque Il giocatore è pronto Per la seriale Sicuramente un buon suggerimento Niang torna in coppia Con Ilicic Queste sono le suggestioni Di mercato Per quanto riguarda Invece il regista La stessa domanda Più o meno Che ha fatto il barone Addirittura Suggeriscono un nome L'argentino Cranewitter Che io non ho mai sentito Quindi magari Lo segniamo E lo andiamo a visionare Poi vediamo se Sarà giusto E poi parecchi Però ci scrivono anche Perché non ci teniamo stretto Valerio Verre Ed effettivamente Può essere anche Valerio Verre Mi aggancio Al discorso di prima Valerio Verre Sarà presente con noi Il 6 luglio Salvo Dico Variabili di mercato Incontrollate Però sarà presente con noi Perché vogliamo Che il mister lo guardi Anzi il mister stesso Lo ha seguito E dice anche lui Che ha fatto Un'ottima stagione Quindi è un giocatore Che vogliamo mettere in mostra Che vogliamo mettere in mostra Al mister E poi anche il mister stesso Farà le sue valutazioni Direttore quanti sarete Il 6 luglio Tanti In ritiro Sì tanti Però ecco Diciamo che Potremmo essere Una trentina I nazionali Si aggregheranno Un pochino dopo Perché comunque Sono stati impegnati Fino a metà giugno E comunque Il numero iniziale Diciamo così Sarà di 30 giocatori Che poi andrà scremato Per le esigioni Che ho spiegato Per la nuova normativa UEFA Quindi Per la prossima stagione Dobbiamo sicuramente Essere in meno Quando parla di Possibili cessioni Dice una Diciamo che Quello più vicino Ad andare via È Allan Cioè Quello per cui Potrebbe arrivare L'offerta giusta L'offerta vera Le altre sono più che altro Chiacchiere Abbiamo sentito Di Wittmer Accostato addirittura Alla Juve Erto alla Roma Dico una Perché non vogliamo Smobilitare la squadra Premio di tutto Questo è il nostro Punto di partenza Non sono state Solamente chiacchiere Perché come ho detto Prima anche per Carnesis Che comunque Sarà qui Dopodomani A firmare Il rinnovo di contratto Quindi questo È un altro tassello Che mettiamo Mettiamo fisso Malgrado le richieste Che abbia avuto Dopo Sì Ci sono richieste Per Alan Anche abbastanza pressanti Però E due ragazzi Portieri Che intenzioni avete? Beh Meret rimarrà Scuffete Stiamo vedendo Perché Ha espresso giustamente Assolutamente sì Lui ha già Svolto un certo percorso Dal punto di vista Di lavoro Fisico e tecnico Quindi è giusto Mandarlo Mandarlo a giocare E quindi Insomma valuteremo Valuteremo un po' tutto Ma soprattutto Per Alan appunto Faremo di tutto Di tutto per Per trattenerlo Ecco perché Comunque lo sappiamo Giocatore Importantissimo Secondo noi Un altro anno Udine Li farebbe molto bene Ancora del 91 Quindi parliamo ancora Di un giocatore Un'offerta indecente Sono quelle variabili di mercato Per cui Poi poi dopo Eventualmente Eventualmente verranno Zappato Zappato e Giorginio In cambio Non sarebbero male Ottimo giocatore Zappato e Giorginio Sarebbe tanta roba Ma è il Napoli Quello che insiste di più Per Alan? Sì Diciamo 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 di sì Dai Però Voglio anche precisare Che non c'è questa insistenza Non è mai partita La trattativa La trattativa vera In maniera più Più assoluta Siamo ancora Nelle fasi Di dire Avete un bel giocatore Lì Avete un bel giocatore Lì E basta Non c'è La trattativa Con il Napoli Di Piris Che succede? Per Piris Stiamo parlando Con il Maldonado Per cercare Di trattenere Il giocatore Che prima di tutto Ha lui stesso La volontà Di proseguire Ad Udine Quindi siamo molto Contenti di questo È stato sicuramente Uno dei giocatori Più positivi Nella passata stagione Però sono Quei Quei situazioni Sempre un pochino Complicate Dal punto di vista Contrattuali Di trasferimento Eccetera Quindi È una situazione Che stiamo affrontando Va bene Ci fermiamo un attimo C'è la pubblicità Poi torneremo ancora Per mezz'oretta Insieme A ragionare Dell'Udinese Del Futura Tra poco